Ciao a tutti ragazzi qui a ZiaDegliAnimaliCheParla In questo video andiamo a vedere il nostro primo anfibio e stiamo parlando probabilmente di uno dei più conosciuti un po' per il suo aspetto, un po' per il suo nome e stiamo parlando della rana Pac-Man il suo nome scientifico è Ceratopris e ha diciamo diversi rami c'è la cranguelli, l'ornata e la cornuta hanno delle piccolissime differenze tra di loro ad esempio la cornuta sopra agli occhi ha un piccolo cornettino ma diciamo che bene o male l'aspetto è lo stesso andiamola a vedere più da vicino allora questa qui è un esemplare di rana Pac-Man dovrebbe essere nello specifico una cornuta proprio perché come vi dicevo prima sugli occhi ha questa specie di cornetto diciamo così, vediamo un attimo se si calma come potete vedere ha un cornetto e la sua caratteristica principale per cui ha preso questo nome è che è una rana che è praticamente tutta bocca infatti da qua adesso ovviamente essendo una rana mi salta vediamo se riesco da qua a qua è completamente bocca infatti è in grado di mangiare veramente prede immense addirittura quelle adulte riescono a mangiare addirittura dei pulcini di gallina non appena nati ma già belli grossi questa qui nello specifico dovrebbe essere green lime proprio perché ha un verde molto acceso molto dolce e ci sono di tanti colori diversi queste rane qua possono avere veramente tantissime sfumature ci sono gialle, ci sono rosse, ci sono arancioni ce n'è anche una che è la mia preferita in assoluto che si chiama samurai che è turchese, è veramente bello come stabilazione adesso ovviamente questo qui è solo un piccolo terrario per farvela vedere ma diciamo che come animale non ha bisogno di troppo spazio perché è un anfibio, possiamo dire, cacciatore andrà a scavarsi una buca da qualche parte probabilmente in un angolo e rimarrà lì ferma fino al momento che gli passa qualcosa davanti al muso per mangiarlo quindi diciamo che a livello di movimento è molto statica come potete vedere gli basterà del terriccio adesso ce n'è uno specifico va bene della torba, della fibra di cocco dovrà essere sempre bella umida magari lasciandogli una parte asciutta se per caso non volesse rimanere troppo nell'umido diciamo così come piante vi sconsiglio di inserirle vive perché lei andrà sempre a nascondersi diciamo sotto le piante che avete messo quindi se voi avete piantato ad esempio una photos o una felce lei andrà sotto continuando a scavare a un certo punto vi ribalta le piante e troverete sempre molto disordine nel terrario quindi io ve lo sconsiglio magari mettete qualcosa tipo dei legni delle piante finte magari attaccate col nastro adesivo così non andrete a piantare in modo che lei possa spostare come alimentazione mangia cioè essendo predatore mangia tutto quello che è vivo quindi in questo caso stiamo parlando di vari tipi di insetti ovviamente se avete una rana che è grande così vi andrete ad andare dei semplici grilli invece se diventa molto più grande potete dargli addirittura delle locuste enormi o dare direttamente di topi come se fosse un serpente diciamo il dimorfismo adesso io non sono troppo sicuro su come si identifichi se non andando dal veterinario l'unico criterio sicuro al 100% è quando l'animale è adulto completamente adulto la femmina è 5 volte più grande rispetto al maschio quindi se ad esempio facciamo conto che questo è un maschio la femmina sarà grande veramente enorme come temperatura andiamo non dico le temperature di casa ma ci andiamo abbastanza vicino l'ideale sarebbe attaccare un tappetino riscaldante su una parete del terario in modo che riscaldi se no potete buttare per un piccolo spot però lo spot ha il difetto che asciuga molto l'aria e eventualmente il terriccio su cui batte quindi essendo lei un anfibio che ha bisogno di umidità diciamo che non sarebbe proprio l'ideale potrebbe sarà necessario inserire anche una piccola ciotolina d'acqua dove lei possa diciamo sguazzare ma non nuotare perché essendo una rana terricola non sa nuotare quindi se mettete una bacinellona con l'acqua leva dentro annega sembra assurdo ma è così però basterà un po' d'acqua questa probabilmente verrà utilizzata spesso come come bagno diciamo quindi andrà sempre a sporcare quell'acqua lì e sarà molto importante da tenerla sempre molto pulita perché gli anfibi bevono l'acqua tramite la cloaca quindi se voi avete l'acqua sporca lei andrà a bere acqua sporca e di conseguenza sarà molto più a rischio di infezioni e tutto quello che ci ruota attorno quindi l'acqua dovrà essere pulita almeno una volta al giorno se volete fare una cosa veramente fatta benissimo potete optare per un piccolo filtro ma diciamo che inizia a essere una roba molto complicata e non la consiglio a nessuno la riproduzione diciamo che negli anfibi è particolarmente difficile rispetto a quello che potrebbe essere quella di un rettile perché un rettile va in bruma non tutti ma di solito va in bruma e dopo si accoppia in primavera invece gli anfibi hanno una fase completamente diversa loro in natura si accoppiano durante la stagione delle piogge quindi bisognerà simulare l'arrivo della stagione delle piogge quindi bisognerà usare ad esempio dei filtri per acquari con una pompa e bisognerà fare dei buchi su tipo un tubo di plastica o di gomma in modo che l'acqua passando faccia tipo dei piccoli schizzi in modo che sembri una pioggia costante diciamo così e molti dicono che per incentivare l'accoppiamento si può anche aggiungere appunto il suono in pratica si mettono delle registrazioni delle rane che cantano e in pratica il maschio quando sente i canti dice ah ma senti gli altri stanno cantando allora bisogna bisogna accoppiarsi lo faccio anche io bisognerà tenere gli esemplari separati perché come vi dicevo prima la femmina è molto più grande rispetto al maschio e una convivenza porta sicuramente alla predazione quindi la femmina si mangia il maschio in un attimo perché proprio gli entra in bocca perfettamente quindi sempre tenerli separati bisognerà unirli solo nel periodo della riproduzione quando c'è questa pioggia ci sono questi canti e poi bisognerà separarli se avviene l'accoppiamento la femmina andrà a deporre le uova che è come diciamo le classiche rane e in questo caso si potranno o tenere tutte insieme o separarle una a una diventeranno da girino il girino crescerà a un certo punto metterà le zampe perderà la coda e diventerà rana completa è un po' diciamo questo diciamo che è molto simile anche ai rospi che ci sono qui in Italia diciamo così come integrazione io vi consiglio ogni tanto un po' di calcio non dosi massicce perché essendo un anfibio non ha bisogno come per i rettili ma comunque sicuramente un po' non guasta diciamo che come animale non è troppo interessante perché come vi dicevo prima dopo adesso lei è in un ambiente che non è il suo quindi adesso è un po' agitata ma una volta che viene inserita nel suo terrario si infossa e tu non la vedi più o almeno vedi solo un po' la testa ma non si muove non fa suoni non fa niente quindi è quasi come avere un terrario un po' vuoto l'unica cosa è che è un'altra caratteristica di questa rana che purtroppo questa non fa è che quando viene disturbata si gonfia particolarmente quasi come una corna musa e a un certo punto inizia a mettere dei suoni che sembra un abbaio cioè fa proprio un abbaio devo vedere se riesco a recuperare un mio vecchio video che ne ho avuta anche io una ed è molto è molto simpatico però è sempre una situazione di stress quindi non conviene stimolarla diciamo così molto spesso perché se no si stressa e potrebbe avere dei problemi è un animale che ha un costo relativamente basso possiamo passare dai 30 a 35 euro per gli esemplari più semplici fino a salire anche i 100 euro 150 per esemplari molto colorati o adulti ad esempio una samurai costa un centinaio di euro più o meno di queste dimensioni adesso questa non è ancora adulta anche se fosse un maschio non è ancora adulta può crescere ancora un po' ma se fosse una femmina sarebbe già molto più grande di così quindi questo qui probabilmente è un maschio spero di avervi detto tutto quello che c'è da sapere su questa simpatica rana cicciona e ci vediamo nel prossimo video